Sicuramente l'emergenza Covid influenzerà la creatività di tutte le persone che hanno vissuto questa grande tragedia in questi mesi, quindi il Covid lascerà traccia nelle storie, nella sensibilità, nella paura che tutti noi nutriremo d'ora in poi per molti mesi del ritorno di una pandemia simile, quindi è un elemento che farà parte del nostro immaginario per molto tempo. Non credo però che sia un'influenza permanente perché spero e credo che ci sarà anche un periodo in cui non parleremo più tanto di Covid e non penseremo più al Covid. Ci sarà sicuramente un effetto sulla produzione perché così come avviene in tutti i settori produttivi abbiamo tutti scoperto che lo smart working può facilitare alcune attività e può permettere anche di risparmiare delle risorse, quindi anche le produzioni useranno ancora di più lo smart working per preparare i film e poi ci sarà purtroppo una necessità di lavorare con ancora meno risorse economiche del solito perché anche l'emergenza sanitaria ha fatto sì che tante risorse di sostegno alla creatività cinematografica fossero ridotte e quindi tutti quelli che fanno cinema si ritrovano alle prese con dei budget più ridotti e con la necessità di creare con mezzi meno costosi. Il fatto di aver visto per tanti giorni film e prodotti audiovisivi sul televisore o sugli schemi dei computer porta a desiderare con grande forza il ritorno in una sala cinematografica. Quelle sale in questo momento sono chiuse, gli esercetti sono in grande difficoltà, tanti andetti del settore sono senza lavoro ed è una situazione veramente molto grave che spero possa essere ribaltata grazie all'aiuto dei sostegni pubblici. La sala cinematografica anno dopo anno è diventata sempre di più bisognosa di sostegno ed è giusto che lo sia perché lo Stato deve preservare una forma di fruizione dell'arte cinematografica che una volta era sostenuta semplicemente dagli affari, dagli introiti delle sale cinematografiche e adesso invece purtroppo deve anche essere sostenuta da un aiuto pubblico. Noi non possiamo assolutamente rinunciare all'esperienza della sala perché solo la sala permette la condivisione, l'immersione in un'opera cinematografica e anche la possibilità di apprezzare veramente in maniera completa le bellezze degli aspetti visivi, gli aspetti sonori. Quindi tornare in sala è fondamentale e spero che questo sia possibile prestissimo. Questo periodo rafforza molto la mia convinzione che un lungometraggio abbia assolutamente bisogno di una sala cinematografica per essere compreso pienamente. Lo stesso discorso non vale per le serie televisive che invece possono effettivamente richiedere una fruizione meno impegnativa, anche diluita nel tempo, proprio per la forma con la quale sono state concepite, anche perché dietro a una serie non c'è un regista autore a tutto tondo che domina una squadra complessa, ma c'è una squadra di creativi, di produttori, di tanti registi, di tanti artisti che insieme partecipano a un'opera collettiva che non ha bisogno di una fruizione concentrata come quella del lungometraggio. Non credo che il modo in cui leggeremo la storia del cinema e in generale la storia della cultura verrà influenzato in modo importante da questa emergenza. Per fortuna ne usciremo, per fortuna il nostro orizzonte non sarà sempre dominato dalle notizie allarmanti e dalle minacce di tragedia che incombono per l'emergenza Covid. Del resto non credo neanche che le opere cinematografiche che verranno realizzate a partire da questi temi saranno all'altezza di descrivere minuziosamente la complessità delle emozioni che tutti noi abbiamo trovato, abbiamo provato in un periodo così particolare e angosciante.